all'inizio della mia carriera fotografica mi chiedevo una cosa perché tra 14 e 15 mm quindi tra 14 e 16 nonostante ci sia un solo millimetro di differenza l'angolo inquadrato varia molto mentre invece se andiamo sui teleobiettivi per variare tanto l'angolo bisogna salire da 200 a 300 a 400 mm mentre invece tra 200 e 201 tra 300 e 301 e 302 non varia praticamente niente e mi chiedevo ma perché da una parte basta un millimetro per variare tanto dall'altra invece bisogna spingersi con 100 mm di differenza per vedere una variazione significativa dell'angolo inquadrato beh oggi vi spiegherò il perché ciao ragazzi benvenuti di nuovo nella rubrica scendiamo nel dettaglio oggi vediamo di capire qual è l'angolo inquadrato da una macchina fotografica con un certo obiettivo perché diciamocela tutta all'inizio non è molto chiaro il perché si misuri l'angolo inquadrato con dei millimetri che invece è una misura di lunghezza ok uno dice subito va bene questo c'entra col fatto che con l'obiettivo con quanto è lungo però poi perché un obiettivo da 200 mm da 300 ha un campo estremamente ristretto mentre invece un obiettivo da 15 mm è estremamente largo oggi cerchiamo di capire il perché partiamo però dal fatto che la realtà non è esattamente come vi spiego in questo video cioè la formulazione che vi proporrò è una formulazione estremamente semplice che nella sua semplicità dà comunque un ordine di grandezza abbastanza preciso tuttavia la realtà vera e propria se volete andare a calcolare effettivamente qual è l'angolo inquadrato da un certo obiettivo con una certa lunghezza focale se volete farlo in maniera precisa ci sono dei conti molto più complessi ma i conti che vedremo oggi che nella loro semplicità danno comunque una stima abbastanza realistica di quale sia l'angolo che corrisponde ad una certa lunghezza focale partiamo con lo spiegare che abbiamo un sensore ovviamente che inquadra qualcosa questo sensore ha una larghezza e un'altezza che se ad esempio prendiamo l'esempio di un sensore full frame sono l 36 mm e h 24 mm quindi il classico sensore 36x24 il discorso vale per qualsiasi sensore per qualsiasi dimensione però lo facciamo su quello full frame che è diciamo quello più utilizzato e comunque più famoso nel momento in cui inquadriamo una scena avremo che questa scena viene ovviamente riportata sul sensore tramite il nostro obiettivo che è caratterizzato da una lunghezza focale d come vediamo dall'immagine ad una certa lunghezza focale d dato che se facciamo partire delle rette dagli estremi del sensore le facciamo passare tutte per questo punto questo punto focale ok queste coprono un certo angolo in orizzontale e in verticale che ovviamente sono diversi perché il sensore non è quadrato a due dimensioni diverse lunghe in altezza e in larghezza pertanto avremo un angolo coperto in orizzontale che chiamiamo alfa e un angolo coperto in verticale che chiamiamo beta in questo disegnino che vi propongo vediamo come funziona con l'angolo beta cioè con quello verticale ma il discorso è lo stesso medesimo per l'angolo orizzontale solo che così per semplificare il tutto vediamo in 2d al posto che in 3d quindi facciamo una sezione quindi abbiamo il sensore di altezza h 24 mm con davanti una lunghezza focale d e quindi un angolo coperto beta purtroppo ragazzi a questo punto bisogna se stiamo parlando di angoli di lunghezza eccetera bisogna per forza di cose tirare fuori la trigonometria lo so che è uno spavrocchio ancora di tanti che tanti ancora se la ricordano come un brutto ricordo dalle scuole però seguitemi è una formula veramente semplice se se non volete andare a ribassarvela fidatevi di quello che vi dico in come come formulazione se andiamo a vedere il disegno che abbiamo fatto come vedete all'altezza h corrispondono due triangoli rettangoli prendiamone uno solo questo triangolo rettangolo ha dimensioni d lungo l'orizzontale quindi uno dei cateti è d e l'altro cateto ha ovviamente lunghezza h mezzi ora la trigonometria ci dice che h mezzi quindi primo cateto è uguale al secondo cateto per la tangente dell'angolo quindi h mezzi è uguale a d per tangente di beta mezzi ovviamente perché l'angolo là in fondo non misura beta ma misura beta mezzi quindi invertendo tale formula otteniamo che tangente di beta mezzi è uguale ad h fratto 2d e quindi beta mezzi è uguale ad arco tangente di h fratto 2d non mettetevi le mani nei capelli e quindi beta è uguale a due arco tangente di h fratto 2d analogamente per l'angolo sull'orizzontale abbiamo che alfa è uguale a due arco tangente di l fratto 2d quindi non di h ma di l giustamente l'altra dimensione e basta il gioco è tutto qui quindi abbiamo ottenuto veramente con tre passaggi matematici che sono semplicissimi quanto vale data una lunghezza focale di e data la dimensione del sensore qual è l'angolo visualizzato quindi l'angolo di campo che vediamo con quell'obiettivo e quindi possiamo provare a fare dei calcoli sia per beta che abbiamo detto che è 2 arco tangente di h fratto 2d e per alfa che è 2 arco tangente di l fratto 2d ad esempio proviamo con una lunghezza focale di 50 mm il classico obiettivo ok per 50 mm se mettiamo nell'equazione d uguale 50 poi lasciamo h uguale 24 e l uguale a 36 scopriamo molto semplicemente che gli angoli coperti sono rispettivamente alfa uguale 40 gradi e beta uguale 27 gradi quindi giustamente quello che già sappiamo come fotografi ovvero che un 50 mm più o meno ha una certa ampiezza che sull'orizzontale è di 40 gradi e sulla verticale è di una trentina di gradi poi in realtà fatto con questo conto è 27 ok sempre ci sarebbero le virgole di mezzo ma tagliamo andiamo a 27 gradi ok ora invece andiamo sulle focali quelle di cui parlavamo all'inizio cioè i 14 mm e 15 mm e 200 mm e 300 mm vediamo cosa succede cambiando veramente di un solo millimetro quando siamo nelle focali basse quindi siamo quando siamo nei grandangoli mentre invece cosa succede variando di 100 mm nelle focali alte ovvero quando siamo nei teleobiettivi facendo i soliti conti abbiamo che con d uguale 14 quindi quando abbiamo davanti un 14 mm l'angolo coperto lo leggo perché non me lo ricordo ovviamente a 14 mm l'angolo coperto è di 104 gradi in orizzontale quindi alfa e di 81 gradi in verticale quindi beta mentre invece a 15 mm quindi è cambiato veramente solo di un millimetro la lunghezza focale pochissimo abbiamo un angolo alfa di 100 gradi e un angolo beta di 77 gradi quindi abbiamo con un solo millimetro di variazione della lunghezza focale abbiamo 4 gradi di variazione in alfa e 4 gradi di variazione in beta quindi è variato di ben 4 gradi l'angolo coperto perché abbiamo variato di un solo millimetro capiamo quindi perché effettivamente quando andiamo nei grandangoli avere un 16 mm ovvero un 14 cambia veramente tanto nonostante i millimetri di differenza siano solo due se invece andiamo sui teleobiettivi andiamo ad esempio a calcolare qual è l'angolo coperto da un 200 mm e da un 300 mm li leggo di nuovo perché non mi ricordo allora 200 mm se fate il conto viene che alfa è uguale a 10 gradi e beta è uguale a 7 gradi quindi angolo orizzontale 10 angolo verticale 7 mentre invece a 300 mm quindi abbiamo aumentato di ben 100 mm la lunghezza focale l'angolo alfa è di 7 gradi e l'angolo beta è di 5 quindi abbiamo una differenza di 3 tra 200 300 mm abbiamo una differenza di 3 gradi in orizzontale e di 2 gradi in verticale quindi vedete che variando addirittura di 100 mm sul teleobiettivo abbiamo delle differenze di gradi in orizzontale e in verticale addirittura minori di quelle che si riscontrano invece tra 14 e 15 mm dove abbiamo variato di un solo millimetro a cosa è dovuto questo questo è dovuto al comportamento dell'arco tangente ora non sto a farvi il pippone matematico però ovviamente nel momento in cui andiamo a dividere quindi dato che d sta al denominatore se andiamo a dividere per un numero piccolo o per un numero grande diciamo che se il numero piccolo varia di poco il risultato è che essendo al denominatore varia di tanto l'arco tangente mentre invece se il numero al denominatore quindi d varia di tanto però tra 200 e 300 mm quindi con un numero grande a quel punto allora in automatico l'arco tangente varia di poco ma questo è proprio per come è strutturata la formula dell'arco tangente non andremo ad esplorarla però il tutto è legato ovviamente al fatto che la formula matematica è questa e quindi sui grandangoli basta veramente una piccolissima variazione della lunghezza focale per ottenere una variazione significativa di angolo inquadrato quindi di angolo di campo mentre invece quando trattiamo di teleobiettivi vediamo invece che se variamo di poco la lunghezza focale quindi tra 200 e 201 mm non cambia praticamente nulla a livello di angolo per poter variare in maniera significativa l'angolo dobbiamo cominciare a variare in maniera pesante la lunghezza focale quindi passare da 200 a 300 a 400 mm ok detto questo spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto metteteci un like che fa sempre piacere e niente ci vediamo alla prossima ciao